un saluto a tutti voi da iphone assist siamo qui a fare un lavoro in velocità per un cliente che ce l'ha richiesto facciamo anche le cose in velocità quindi con una rapidità enorme è stato portato stasera domani è pronto dunque già sarebbe pronto stasera ma comunque domani è pronto è questo qui è un ipad mini il danno è qui al connettore del touch screen qualcuno lo ha forzato in più punti quindi è rotto abbiamo messo come vedete del captain attorno per evitare che altre parti si danneggino lo toglieremo useremo la tornado 1 che è una piattaforma ad infrarossi molto conosciuta per toglierlo preparerò a mano tutte quante le piazzole sono diverse per bene poi rimetterò un nuovo connettore touch screen e lo salderò di nuovo di infrarossi eventualmente poi servisse qualche ritocchetto lo farò a mano con il saldatore a stagno questo quindi è il mio piano di lavoro che vi ho appena illustrato e con cui procederò alla riparazione di questo ipad mini ok abbiamo già visto che il danno è qui lo schermo si vede benissimo eccetera ho scollegato la batteria ci hanno già portato aperto comunque lascio scollegata la batteria ci concentreremo su questa zona per togliere il nostro touch screen mi sembra un piedino il terzo in sotto rotto e mi sembra poi il quarto è buono il quinto anche rotto non so come mi hanno fatto a romperlo a saltarello ma lo hanno rotto in questo modo adesso noi lo togliamo con la nostra tornato 1 questo metodo ad infrarossi insomma di lavorare onde evitare diciamo di interferire con altre parti di questo ipad dopodiché andremo a saldarlo sempre ad infrarossi uno nuovo prima prima lo prepareremo in modo adeguato dopodiché passeremo al controllo al microscopio delle varie piazzole come sono venute e procederò eventualmente a qualche ritocchino e vedremo se tutto ok cioè se il touch screen è tornato a un regolare funzionamento bene partiamo la macchina infrarossi l'ho già accesa quel rumore che sentite della nostra macchina qui la tornò di 1 è accesa questa è l'impostazione 32.5 allora adesso vi faccio cercherò di farvi vedere la cosa eccolo qui questo è l'ipad mini tutti stai fermo ci fa in piacere ok allora cerchiamo di mettere a fuoco ok e questa zona qui dove sta il connettore noi andremo adesso a lavorare lì con la nostra tornato v1 ecco qua in modo che possiate possiate vedere l'operazione non è facile ma nemmeno molto difficile adesso piano piano scalderemo il connettore e poi lo sporteremo con l'utensile che mi sono portato appresso ok cominciamo a scendere la campana in modo da cominciare anche a riscaldare per bene il connettore abbiamo messo diverse luci per vedere meglio penso vedrete bene anche voi il connettore è illuminato bene procediamo capton fa in modo da proteggere le altre parti andiamo a staccare il nostro connettore touch screen che è l'unico che poi è rimasto scoperto abbiamo messo nel flussante tra un po dovrebbe essere possibile asportarlo la tornato v1 permette l'operazione abbastanza chirurgica mentre la v2 che più potente però è una campana troppo ampia e quindi non permetterebbe questa operazione oggi lo stesso lavoro ha fatto ciro il nostro alunno che attualmente sta facendo il corso di novembre con un altro ipad di laboratorio dei test e gli ho fatto proprio saldare di saldare il connettore touch screen ciao ciro e lo facciamo perché uno abbia diciamo il contatto no con con questo problema e sappia poi nel caso si presenti risolverlo caccio dovrebbe essere quasi pronto alla rimozione ci vuole un po' eh non bisogna mai forzarlo ma aspettare che dopo loro si stacchi quando comincerà a friggere sarà pronto ad essere staccato ancora no connettore del touch screen piccolino è più grande quello dell'lcd rispetto a questo però sta più su si sta togliendo finalmente sto controllando se ciò che ha protetto è rimasto protetto perché non vorrei fare alcun danno al nostro ipad mini continuiamo mettere ancora un po di frustrante perché quello che c'era non c'è più allora prenderò quello sul banco del nostro alunno di ciro perché io adesso il mio banco di lavoro è più lontano rispetto a questa postazione dove c'è l'infrarossi e ora prendo quello che è più vicino ok vi andiamo sotto l'infrarossi grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Non si stacca facilmente ragazzi, eh? Eppure l'ho scaldato ben bene. A quanto pare il metodo infrarossi non funziona. Passiamo a quello tradizionale. Dunque, il metodo classico è questo qui. Lo faremo completamente a mano col saldatore. Asporteremo col saldatore questo qui, che è il connettore touchscreen. Primo ho protetto tutto, adesso non serve perché andrò col saldatore. E poi rimetteremo quello nuovo. Vorrei farvi notare che qui accanto, dove c'è la vite, è stata strappata questa vite. L'ho messa da parte, eccolo qui. Questa qui. E un pezzo di scheda è rimasta nella vite. È stata proprio strappata, non so più quale motivo. Forse quando hanno tolto, perché non è stato portato aperto, la protezione qui sopra. Questa qui stava sì, poggiata così, vi faccio vedere. Ma era completamente, è stata un po' strappata la scheda in questo punto qui. Qui si può vedere anche meglio dal nostro microscopio. Vi faccio vedere la zona. Allora, mettiamo a fuoco. Andiamo di portarci sulla zona dove è strappato. Scansiamo questo che forse si vede meglio. Ok. Allora, vediamo di mettere a fuoco. Ok. E adesso vi faccio vedere la zona. Allora, eccoci qua. all'interno del nostro iPad. Non è facile inquadrare, ma ci arriviamo piano piano. Si fece Roma. Ecco qua. Questa è la zona. Vedete? Qui si vede un po' di petrolesina. Perché è stata divelta, eccola qui, strappata in questo punto. Non so per quale motivo. Forse avvitando la vite male o tirandolo via senza le dovute cautelle. C'è questo strappo in quel punto là. Non dovrebbe provocare niente perché guardando al microscopio sembra che non sono arrivati a rompere le tracce. Speriamo di no che non si sia rotto nulla perché altrimenti anche se io adesso sostituisco il connettore non avrò l'esito desiderato. Cioè non funzionerà se qualche microtraccia è stata strappata. Comunque procediamo. Allora, eccoci qua. Io lavorerò in questa zona completamente a mano. Userò una punta di saldatore un po' hard, pesante. Onde togliere questo connettore. Mi dai con lo stagno Antonio, grazie. Cioè mio fratello. Salute Antonio. Salute a tutti a voi. A tutti quanti voi. Poi andiamo a vedere la partita del Manchester. Tra un po' inizia. Tra un po'. Vincerà la Juve. Ah non lo so. Ieri sera Roma ha perso ma la Juve non è la Roma no? Speriamo bene. Bocca al lupo. Allora, e crepi il lupo. Ti vuoi accendere? Questo saldatore ancora non squaglia lo stagno. Adesso si, si è scaldato. Una bella punta hard, dura. Io guarderò dal microscopio la mia opera di disfacimento di questo connettore. Voi lo vedrete da lì. Ci ho provato con i farlossi ma non mi sembra un metodo al 100% come si può dire? Adatto per questo scopo. Per cui non devo non voler distruggere nulla. Perché noi qua siamo per riparare Antonio. Ti pensi che se sfasciamo il cliente si arrabbierebbe? La stessa prenderebbe con noi e non ci pagherebbe. Allora il lato destro l'ho già diverto in questo modo. Questa plastica si regge a una certa temperatura ma 320 gradi con questa punta non li ha retti. Ok, adesso dovrei fare un'altra zona quindi devo cambiare mano perché lavorerò col sinistro. Non sono sinistro ma sono destro ma cercherò di fare del mio meglio. Non so se andrò anche davanti alla fotocamera ma qualche cosa Antonio magari correggi tu la videocamera e io devo lavorare da questo lato. Non so come fare per farlo vedere. Forse da qui Antonio capito? Allora andiamo a... Ecco qua. Si vede? Sì sì. Ok vado a mangiare questa zona qui ho messo chiaramente del flussante qui se un po' di stagno vi va a finire dietro non vi preoccupate perché poi lo togliete. Anche perché se dovete lavorare adesso faremo così. Volevo dire se è dello stagno ho detto del flussante se dello stagno va a finire dietro non vi preoccupate che poi lo togliete. O se anche qualche componente che ne so si sposta un po' lasciate stare ci pensate dopo. Adesso mi giro così per lavorare qua. E tutto gira che ti rigira amore è bello. Penso che te lo mette ancora un po' di flussante. Eccolo qui. Quindi flussante, stagno e punta di dimensioni abbastanza ampie. Mi sono sporcate le mani di flussante. Mi do una pulitina e se permettete. Si può? Giusto. Ci ringrazio. Allora per lavorare con la destra perché mi trovo meglio la giro eh. Torno subito in diretta. Però in questo modo sto nel lato opposto ma con la destra che mi ci trovo meglio sai. Si vede? Come no? A posto. Io adesso sempre lavorerò al microscopio. Mettiamo a fuoco. Ok. E andiamo a fare la parse destruens. Distruggere questo connettore. E andiamo a fare la crisi. Poi le dovremo rimettere Puliremo per bene il tutto E andiamo a rimettere La parse testluenz Fa sempre coppia con la parse costluenz E quello chiaramente nuovo Noi dovremmo fare questo servizio Altrimenti poi Non funziona Piano piano Stiamo andando avanti piazzola per piazzola Ok Diciamo che siamo al 70% circa Continuiamo Ok Dovete fare piano Mi raccomando Senza forzare Aspettate che la punta entri Con tutto lo stagno e tutto il resto E con il sciussante E otterrete Oh ripeto Non è difficile Ma nemmeno facile Infatti Il nostro cameraman qui si muove Antonio Allora si vede? Come no Stavo sgagiando questo supporto qua Perché da fastidio Da fastidio il treppiedi? Eh da fastidio sì 4 invece che 3 Non mi permetteva di muovere Ah Eh così è inquadrato te E la salvatura che stai facendo Pure me Ah Ma io non voglio essere inquadrato Ah beh che stai guardando con il microscopio no? Così No non mi interessa Così è pregredibile no? Che stai facendo il microscopio Ah perché? Che lo volevi fare? No Sto dicendo così Si vede veramente che stai facendo il microscopio Si vede? Perché era finto? Eh no magari Dicono non è vero Ah E' tutto finto è vero Quasi finito Per dire con il connettore Poi dovrò ripulire i componenti Perché si sono un po' Sporcati giustamente di stagno Perché stanno a due passi Però comunque sia L'importante è che il lavoro viene bene no? Giusto Allora Qui ci vuole ancora flussante Perché un po' di stagno Si è appoggiato dappertutto Anche qui Poi Una bella ripulita con una punta fine Non con questa qui Che è bella dura invece E andiamo avanti Allora L'ultimo tratto L'ultimo miglio Questo è un iPad Wi-Fi Se non sbaglio Sì Mini 1 Per quanto pare Comunque anche È stato comprato da poco Ma l'ho detto E già è stato fatto Procurato questo danno Purtroppo Ecco qua L'abbiamo liberato tutto Adesso puliamo La rimanenza Della plastica Le piazzole ci sono tutte Era quello l'importante Si vede Sì Mi era ripulita Adesso lo stagno Che è andato su queste altre Piazze Su questi componenti Liberarli Da questa Marea di stagno Lo faremo con una punta Più fine Antonio Possiamo anche mettere così Perché andiamo a fare Il lavoro di fino Di pulizia La punta fine Dove sta Va bene questa Intanto Poi Allora Vediamo dove siamo Ok Lo devo inquadrare Ora lo vedo Bene Andiamo a pulire piano piano Il tutto Ok Lato verso la parte Qui è sempre più semplice Il lato più difficile Da trattare Quello dall'altro Dall'altra parte Perché È più nascosto Rispetto al lavoro Però piano piano Come si fece Roma Si fece Napoli E tutte le altre zone Ok Sto portando via Lo stagno Che è andato a finire In più lì Questa è la postura Dove sta Questi giorni Il nostro alunno Che si chiama Vito Ciao Vito Che viene da Brindisi Beh non una città Lì vicino a Brindisi Adesso non mi viene il nome Caste un nuovo Fontana Una cosa del genere Stasera è rimasto Fino a tardi Per fare Siamo arrivati ai Samsung Dopo aver trattato Tutti gli iPhone E aver visto anche Le problematiche degli iPad Siamo giunti al Samsung E abbiamo quasi finito L'S2 Domani lo finiremo Completamente Poi passeremo All'S3 E poi all'S4 E poi stiamo quasi Ormai alla fine Pure di tutto il corso Loro lo sanno Si stanno preparando Adeguatamente Adeguatamente Già qualcuno di loro Un po' Lavoricchiava Mi hanno detto Sto pulendo Antonio Ci è andato Un chilo Di roba in giro Qui E allora bisogna pulire Allora Le piazzole Ci sono tutte Anche da st'altro lato Questa è fondamentale No importante Fondamentale E un Non so Una resistenza Se è un po' girata Ma ora La ricominciamo Di tornare al suo posto Che è quella Dove sto lavorando adesso La rimetteremo In riga Perché si è spostata Beh Quando si fanno questi lavori È da mettere in conto Che qualcosa si sposta Poi si rimette a posto Qualcosa si lega Ora io preferisco Fare a mano Onde ottenere Un Una cosa perfetta Sono un po' manico Di questo Della perfezione Però Diciamo che sempre L'importante È che funziona No? Usiamo la punta fine Adesso Perché la pulizia grande L'ho fatta Con quella a scalpello Ora passiamo Alla punta fine Diamo prima Una bella pulita Per terra Perché È tanto C'è tanto male Di sporco Prendiamo l'alcol Sopropilico E andiamo Alla pulita Qui Pure adesso Si vede meglio Se è pulito Guarda Antò Perché io adesso Al microscopio Lo vedivo Ma Probabilmente Loro Non riuscivano a vedere Bene Adesso Guarda un po' Si vede meglio? Sì 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 Questi giovani Sape la tosse Metto anche questo Per tenere fermo La scocca Allora Allora è un po' Sì Sta avvenendo Un ottimo lavoro Qui sopra c'è un po' Di plastica Che ho portato via Questa si può togliere Anche con tulla Questa qui Dunque abbiamo Qualche componente Di questo Che si sono legati Tra di loro Chi fidanzato Chi sposato Ma lì Divorziamo tutti quanti In questo caso Siamo a favore Del divorzio In altri casi Forse no Ma qui Non si devono legare Tra di loro Se non per amicizia Allora Andiamo a operare Sempre Flussante E' accanto Giusto Ci sento Come no Sto qua Voilà Punta fine Allora Dopo la punta Magnum La punta Medio Passiamo La punta Fine Allora Stiamo finendo Ritoccando Il lavoro Questa è quella Che va rimessa A posto Vediamo Se ci ritorna Ehi amico Si è mosso L'hai visto? Lo stiamo convincendo Ritornare al posto suo Ok Ehi E che ti fidanzi Con tutti tu Ok L'abbiamo staccato Intanto Poi lo finiamo Bene Ok Ci sono tanti I microcomponenti Qua no Questo invece Che si era attaccato E' abbastanza grande Si era attaccato Con questo condensatore E C'è anche un altro condensatore Sotto Quindi E' doppia la cosa Non mi sbaglio Ah no Sembrava Non c'è niente sotto Solo stagno Ok Ok Abbiamo quasi fatto Dopodiché prepareremo le piazzole Andò Metteremo il nuovo digitizer E abbiamo finito Ipad mini Rimuazione digitizer Difettoso Prima abbiamo provato Con gli infrarossi Poi Il metodo Non mi piace tanto E' troppo invasivo Secondo me E non si ottiene Che si rimuove Per cui Sono passato Il metodo Completamente manuale E' da pazzi Farlo Come dice Stefano Però Quel che conta E' che Il lavoro Venga fatto bene Ancora un po' Di rifiniture Abbiamo fatto Allora Ho messo Un attimo pausa Ho messo sulla scheda Che sto lavorando Un'altra scheda Identica Ipad mini 1 Perché Perché Vado a vedere Questa è il nuovo E funzionante Vado a vedere La situazione Ovvero Quella parte Che io ho spostata Da che parte Stava E ho controllato Su questa scheda Antonio E ci sono due condensatori Poi ci sono due piazzole a volte E quello va dopo Per cui adesso Sono sicuro Di dove va Sai Mentre Che stai saldando Con tutta quella cosa Dici Ma dove stava Questo E quindi Lo dovrò mettere Su quelle due piazzole Qui in fondo Avevo capito bene Quindi ecco I due condensatori Qui due piazzole vuote E quello va lì E adesso ce lo portiamo E lo saliamo Però non mi ti mettere In bocca Con la videocamera Mamma mia Quanto sei vicino Fammi lavorare Si vede meglio Eh sì Però In bocca Io vorrei Qualche altra cosa A quest'ora Magari da mangiare Da bere Più tardi mangiamo Mentre che ci guardiamo La tv E la juventus O non me la fai vedi Stasera juventus Ah ti ringrazio Quanto sei buono Allora Il laggeggio L'ho mandato Più o meno Al suo posto Qui Questa qui È ancora appiccicato Qua L'ho divorziati Vediamo se c'è qualcun altro Che ancora Questi due Sono ancora uniti In matrimonio Ecco qua Sono divorziati Pure questi È un lavoro lungo Di separazione Ma insomma Si fa Separazione Diciamo divorzio Consensuale Allora Dunque Mettiamo un attimo Fuoco Con il microscopio Meglio vedo Meglio lavoro Allora Qui Ok Ok Ecco qua Anche questi due Le abbiamo divisi Bene Mi sembra che non ce ne siano più Di Uniti in matrimonio O fidanzati Allora Preparo le piazzole Come dico ai miei alunni Le piazzole vanno preparate In modo panciuto Ma non troppo Questa qui esterna Fa schifo C'è dello stagno strano In questo caso Lo asporto Non con questo Ma con Quello ardanto Di punta Se no Non viene via La metto nuova Guarda Non rischio nulla Con la punta grande Perché È tutto Già pulito Non andrò mai Vicino ai componenti Ma solo A dare una pulita A queste piazzole Vedi che adesso Com'è ragione Quella piazzolanto Prima con quella lì Gli stavo facendo Il solletico Ma con questa qui No Quanto puzza Questo flussante Antonio È così nocivo Alla salute Vado sull'esterno Qui Ti hanno scritto a te A te Su che ti hanno scritto a te Mi lo dico a te A te Si scherza È vero Non è scritto a me Ma leggeremo domani Ormai Ok Allora possiamo pulire Adesso È ancora meglio di prima Aspetta Quello era saldato Vero Quasi Non è proprio saldato Del tutto Lo mettiamo Dove deve In riga Anche ancora C'è un po' di Quella plastica Per terra La vedi Antonio Quella plastica Che ho cercato di togliere Ancora è affezionata A questo coso Ancora sta lì La scheda di riferimento La possiamo togliere Tanto c'è stato Solo per vedere Dove stava Quel componente Se sulla prima O sulla seconda Se stava in prima O in seconda fila Ecco Ho scoperto Che stava in seconda fila Adesso Lo dobbiamo proprio Mettere bene E possiamo passare A mettere Il digitizer nuovo Mazza quanto Flussante ancora c'è Ecco Non pulisce per niente Questo spazzolino Mi ha fatto Il solletico Ce n'è tanto Vabbè che ne ho messo Tanto pure Però Senti intanto Metti l'attivo Pausa Grazie Abbiamo ripreso E' finito di chiacchiere al telefono Ok salutiamo Enzo di Cassino Ciao Enzo Che ha chiamato mio fratello Io intanto ho messo la partita Perché nel frattempo Inizia la pure la partita Di pallone Perché Io E' vero che devo fare le cose con urgenza Ma la partita Ma la vorrei sentita Non dico vede Sta iniziando Ora Juve Match Siti Allora Vabbè Intanto ho rimesso a posto Il coso Mentre che tu chiacchieravi là Quello elemento Che stava in giro Un po' Quello laggiù Non si vede Perché è piccolissimo Per vederlo Dice vorrebbe proprio Una zoomata Da Da due millimetri Ok Ok Adesso devo girare Perché Devo stare all'altro lato Di quel componente Che ho messo lento Quindi dobbiamo girare E andare Perché sai con la destra Essendo io destro Lavoro sempre meglio Giù 352 Perché Non saprà l'allenatore Ma Stiamo a Torino A giocare Vale Eccolo qua L'abbiamo presa Hai visto un po'? O meglio Perché il touch Che è sempre quello Che adesso Non lo porto in visuale Sul microscopio Che la che devo lavorare Era lì che volevo lavorare Allora A questo punto Vi faccio per bene Le piazzole E poi finalmente Andiamo a saldare Il nuovo touch Userò il giravite Giravite Ah La punta Guarda 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 L'antona Fagliare La vedere Sta qui Quella a scalpello Che è buona Per rifare le piazzole Che è questa No La velle E buona Perché tu puoi Cambiare le punte Al volo Quando ti pare Piace No Quando vuoi E se Puoi Stiamo usando Quella più economica Poi di velle Costa pure poco La vsm1 La potete compare Anche attraverso Di noi Poi Se avete Come si dice Se volete Potete comprarla Voi Che conto vostro Abbiamo anche dato A nostri alunni Dei riferimenti Dove acquistarla No Che l'hanno Trovata buona E se la vorrebbero comprare È iniziata La partita Eh sento Ma non vedo Dopo vedrò Sì Ci avrò un attimo Di tempo Dove è quasi finito Quindi Poi ce la vediamo In santa pace Vediamo la replica In quale replica Voglio vedere la diretta Mi perderò i primi minuti Ma poi Diciamo Diciamo Abbiamo visto Le due maglie Quella di alcune E quella di ieri Assolutamente vicine Vicine a Pagliate Evidentemente L'idea di Pellegrini Era di farli stare insieme Nello spogliatoio Perché si potessero parlare Eh sì E dunque Ovviamente La qualità Tecnica Fisica Dello strepitoso Numero 42 Con la maglia del City Oggi potrebbe Essere Spirata qualche metro più avanti Evidentemente Stai vestiti in giallo Vaglio Stai vestiti No Bianco nero Bianco nero Giallo sono quegli altri Allora Mi piace Adesso prendo il nuovo connettore E lo mettiamo Che ho dato poi a Ciro Perché Ciro Oggi per fare le sue prove Ne ha consumati alcuni Ma Dovrebbero essere avanzati Non credo che li ha usati tutti Dunque Mi servirà qui Soprilico Metti un attimo Un pausa Antonio Ultimo ritocco E abbiamo finito Ci sei? Sì sì Possiamo andare? Prega che Diciamo che il tempo Sta finendo Perché l'hard disk Ha spazio limitato Noi facciamo video In alta definizione È chiaro che Non abbiamo tempo illimitato E l'hard disk Lì ogni volta Ti dice quanti minuti Sono rimasti Giusto? Quanti ne mancano Adesso Beh adesso Abbiamo cancellato qualcosa E poi continuiamo Ah Ok E la riva sta ancora 1-0 Ah forse E poi la 5 Contro Manchester United Stiamo vincendo ragazzi Oh vai se non siete I ventini Io ci ferò sempre Belle squadre italiane Ieri sera Mi sono guardato un film Ma perché Ma come sapevo Che c'era la partita Da Roma Sento? Ma hanno detto I ragazzi ieri Le viti Le viti Non è successo niente Si è solo Sganciato Dalle mollette Questo ipazio Niente di che Abbiamo finito Adesso controllo Con il microscopio Se tutto il lavoro È stato fatto Come Cristo comanda E dopo di che Lasciamo stare Eccoci qua Dunque Sì Allora Il connettore Touchscreen È come Doveva stare C'è qui Un condensatore Che voglio vedere Se è sceso Anzi Dovebbe essere Induttanza Questa Mi sembra Che sta giù L'avete appena Appena Incantata Ma tocca Allora Qui è tutto ok Vediamo i pedini Come faccio ai miei alunni Con l'ago Se hanno preso Si testano con l'ago Sporco Dopodiché Vuol dire Che siamo a posto Ok Il lavoro Si può dire Che è finito Poi va pulito Un po' Una bella pulita Rimontato Questa antenna Qui Guarda Falla vedere Si è un po' Bruciata La cambierò Ce l'abbiamo La metteremo nuova Questa dovrebbe essere Un'antena del Wi-Fi Si è bruciata Ce l'abbiamo La cambiamo Quest'altra invece Ok Niente di che Ok Beh qualcosa Purtroppo Si è bruciata adesso Perché vedi C'è un piccolo Spazio Non so se Ah forse Anche lo speaker Ma pure quello Ce l'abbiamo Che sarebbe questo Vedi I speaker dell'iPad mini Sono due Uno e due Quindi l'iPad mini Forse c'è la stereo L'audio Mentre l'iPhone C'è la mono Come lo sai Che sono due le casse Dovremmo cambiare Questa cassa E questo qua Ok Dunque Ottimo 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 risultato Ottimo e abbondante Il connettore Non si è per niente Menomato Con l'aria calda Perché come avete visto La prima parte a mano La seconda Con l'aria calda Dovremmo essere Ok Poi testeremo tutto In un successivo video Per adesso Per quanto ci riguarda È tutto Vuoi salutare Saluto a tutti quanti Ciao ciao a tutti quanti Da Icon Assist Forza Juve E tante belle cose Ciao ciao Bye bye Ciao Siamo in onda Ipad mini Connettori Touchscreen O digitizer Vedi Fora ipad Sono uguali Almeno i connettori Anche su due E su tre Per il resto Qualche differenza C'è no Ne prendiamo uno Dal blister Adesso lo scartiamo Prepariamo Le piazzole Sono state preparate Juve Manchester Ancora Zero Zero Allora Andiamo ad aprire Il blister Che c'è un nuovo Connettore Da installare Eccolo qua Bello Ecco qua Ma se vuoi usci o no Se è attenzionato a questo blister Per questo connessù Eccolo qua Forse Siamo Ok Lo mettiamo qua vicino Adesso metto il flussante E poi partiamo Lo mettiamo preciso Perfetto Siamo Siamo le piazzone E' appena Una scaldata Con la pistola Della calda No Per fare in modo Che il flussante Si flussi Attenzione Antonio Ok E poi andiamo Con la pallatura Ok Adesso andiamo a mettere Il nostro nuovo connettore Che è questo Operazione bruttica Operazione molto precisa Se no Non funziona Quindi vanno preparate per bene Le piazzole E poi va messo preciso Usando i miei alunni Che sono pignolo Pignolissimo Su questa cosa Perché Loro dicano Ma ugualmente E' un po' storto No Storto Niente Dritto Si Storto No Non stiamo giocando a tennis Che se fa rovescio E dritto Qui E' una scaldatura Che l'ha fatta Come si deve Al bacio E quindi Bisogna essere precisi Giusto Giusto Anche perché Poi che risultato No Uno più uno Il risultato Uno meno uno Adesso è piazzato bene Che è successo Stavano segnando In Manchester Ma no Ma fatevi calmi Fatevi una passeggiata pure voi Tornatevi a Manchester Tranquilli Così è buono Mi do una prima Una scaldatina Mi permetti Anto Prego 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 Non si mette in mezzo La conosci Questa cosa Antomo ti faccio vedere Che vuoi un prestito Anto Quanti soldi sono Anto? Di 2 euro Ti servono 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 per evitare che surriscaldi qualcosa Che non vogliamo surriscaldare Esageriamo Va Io la coltrivo Anto Lei permette? Prego Sei convinto? Stai bene? Vado eh Devo scansare però questo qua Se no non posso lavorare bene La Vediamo un attimo come siamo qua Ok Devo passare dentro a te Perché sto dentro Al cavo del tuo 4 minuti Ci basta? Non tolgo Abbiamo quasi finito Che segna? E che sto Babà 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 Non segna Eccolo E' arrivato? Chi è? Banzukic 1-0 Per la Juventus Anto Gli ho portato fortuna Vedi? Ok Dovrebbe Avere intanto Già un po' preso Controllo Con microscopio Giustamente Allora Vediamo un po' Scegliamo giù Ah si E' sceso Ma non tutto L'immaginavo Infatti Sapevo di dover Intervenire anche manualmente Ora non è che Dobbiamo forza Fini tutto Stasera E' che la cena E' cena La partita E' partita Io ho detto Che lo faceva Più presto Entro 24 48 ore Mira io Vediamo Adentro Mezz'ora Il sito Il sito si è preso un sito in porta Bello 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 Bel gol di Mandzukic Mandzukic Oh questo calciatore Anche come di Bama Gli è da giù Ok 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 Toccato da Alessandro, poi scintille fra i due, intanto senza fretta, a squadrare i pellegrini, può cambiare lato, con l'apercura per l'inizio di Zontani, verso Otamendi, venite prima, Cricci, Otamendi, viene incontro a Fernando, eccolo che riceve. Oh, gioco pure Fernando? Fernando, ma non è l'idea da dormire che eri stanco? Hai messo a giocare a pallone? Ah, è vero, a calcetto lui intanto gioca. No, Fernando! Ok, è abbastanza, che dici, ce n'è abbastanza di flussante un po'? Ti diamo un'altra bottarella, se tu permetti, eh? Si vede? Prendo la pistola e ho il porto d'armi, Anton, non ti preoccupare. Bisogna averci porto d'armi, se no una pistola non la puoi usare, capito? Vado, eh? Basta così. Vediamo se abbiamo il risultato che volevamo. Allora, i piedini sono scesi quasi tutti, Anton, ne manca mezzo-mezzo. No, diciamo che stanno bene, però siccome sono un perfezionista, faccio scendere un altro porto, tu permetti? E poi ce ne andiamo. Quanti minuti ti mancano? Un altro minuto. Ferma un attimo, dai, su, ferma un attimo.